C'è un posto in Sicilia che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Non parliamo della meravigliosa Palermo e nemmeno della barocca Ragusa, ma di Favara. Ne hanno parlato i grandi magazine internazionali e le tv, ne hanno parlato durante i convegni mondiali, durante Expo 2015 e durante la Biennale di Venezia. Ne hanno parlato perché Favara è la città di Farm Cultural Park, uno dei progetti di arte contemporanea più innovativi concepiti in Italia. Farm Cultural Park è il simbolo della rinascita, di una Sicilia che non si arrende, di una Sicilia creativa e geniale. Saremo sinceri, in questa regione negli ultimi anni sono stati sviluppati alcuni dei progetti creativi più interessanti che abbiamo mai visto, ma partiamo dall'inizio. Farm Cultural Park non è un semplice progetto di arte urbana, ma è un collettore di arti contemporanee, di sperimentazione, confronto e rigenerazione. È nato il 25 giugno del 2010, appena sei mesi dopo un'immensa tragedia che ha colpito tutta la comunità di Favara, la perdita di Marianna e Chiara, di 14 e 4 anni, decedute sotto le macerie a causa del crollo di una palazzina. In seguito a questo tragico evento, Favara è stata moralmente distrutta, ma da lì a poco si è arricchita di un nuovo sogno come lo definiscono i suoi fondatori. Farm Cultural Park unisce architettura, installazioni, performance, street art e porta mostre impensabili nel cuore della Sicilia. I suoi sette cortili diventano protagonisti dei linguaggi contemporanei e richiamano artisti, galleristi, curatori, esperti e appassionati da ogni parte del mondo per scoprire questo microcosmo di creatività e rigenerazione. Nel corso degli anni Farm Cultural Park è divenuto un centro culturale aperto al confronto dei diversi linguaggi e che ha ospitato artisti in residenza che hanno creato opere all'interno dei suoi spazi. Tra questi ci sono lo street artist belga Roa, ma anche la Phil Bertha, i mangiatori di patate, Rosk & Lost e altri. La Sicilia è da sempre al centro del Mediterraneo ed è stata per secoli il cuore culturale del sud Europa, ma ora grazie anche a Farm Cultural Park possiamo dire che qui si sta scrivendo il futuro attraverso i linguaggi dell'arte e la voglia di far evolvere la storia di un territorio.